ci vedi dai usi l'altro occhio usi l'occhio solo non riesci a tirarlo fuori qua dobbiamo andare giù la sotto senza guanti ma lo vedi ma va come faccio a vederlo c'è dentro un pezzettino di cosa sotto non riesci non riesci c'è solo una briciolina è sì ma con la briciolina ti fa impazzire quasi come te boh guarda dov'era la cazzata qua era perché quando è anche una virgola basta adesso però ti sembra un elefante certo era una briscolina piccolissima e anche una cosa microscopica ma quando ce l'hai dell'occhio ti sembra un elefante operazione fatta